buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è mercoledì e come i professionisti giro durante la settimana ragazzi non è vero sono in ferie è il 27 dicembre e quindi sono in ferie quindi giro oggi siamo a crotta pista nuova per il beta proviamo proviamo a vedere come va il beta qui ci sono già diverse buche però la pista è molto bella terreno ottimo nebbia la classica giornata del pianura padana qui c'è il betone pronto quindi ragazzi andiamo a dare gas tio boche sound tio walter no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti